ciao a tutti e benvenuti sul mio canale allora oggi ne ho un video questo è un refill fatto da una mia cliente e questa volta ha scelto di fare tutte le unchie bianche tranne l'anulare che ha scelto questo glitter tipo oro assomiglia più o meno un oro argentato oro dai è una specie di oro non posso dire proprio di precisione che colore sia definitivamente ed non è di passione unghie invece il bianco che sto applicando adesso come potete vedere è blipur white di passione unghie sempre due passate su tutte le unghie nell'anulare questo colore oro e sopra il bianco ha voluto questo colore brillantinato glitterato insomma oro come french sopra il bianco infine l'isiglossi di passione unghie e l'olio peticole io spero che comunque il video vi piacerà se sarà così metterete il pollice in su sotto al video se volete commentatemi e noi ci vediamo presto al prossimo video ciao 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 ciao